Operativo da ieri il portale internetnextappennino.gov.it, attraverso il quale i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche potranno informarsi di accedere alle risorse e alle agevolazioni del fondo complementare al PNRR per le aree danneggiate dai terremoti del 2009 e del 2016 in centro Italia. Ad annunciare la notizia in una nota congiunta il commissario alla ricostruzione 2016 Giovanni Regnini, il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio e la struttura di Missione Sisma 2009, pure afferente alla Presidenza del Consiglio. Nextappennino, che ha una dotazione di 1 miliardo e 780 milioni di euro aggiuntiva a quella del PNRR nazionale, è uno specifico programma di sostegno allo sviluppo dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal sisma con fondi per le infrastrutture e incentivi agli investimenti delle imprese avviato dal governo nel 2021. La prima parte del programma con investimenti per oltre un miliardo di euro per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali. I bandi sono 10 e riguardano molteplici tipologie di investimento delle micro, piccole, medie e grandi imprese. La transizione ambientale, la valorizzazione dei beni artistici, ambientali e culturali, delle produzioni locali, l'inclusione sociale, l'occupazione dei giovani e delle donne e l'economia circolare. Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 settembre fino al 15 ottobre 2022, tranne per il bando relativo ai grandi investimenti delle imprese, che sarà aperto dal 1 al 30 settembre, e quello per le iniziative di partenariato per la valorizzazione del patrimonio pubblico, che sarà aperto dal 1 al 30 ottobre 2022. Si procederà poi all'assegnazione delle risorse come da cronoprogramma entro la fine del 2022.